Si è registrato questa mattina da un incidente mortale sulla due autostrada del Mediterraneo a perdere la vita un trentenne di origini ucraina, residente a Calabrito, a bordo di una Smart. Il traffico è stato provvisoriamente bloccato in direzione nord tra gli svincoli di Contursi e Campania a chilometro 42,138 nei pressi della città di Campania. Per provvedere a mettere in sicurezza il tratto dove si è verificato lo scontro mortale, la circolazione è stata temporaneamente deviata con uscita a petine e rientro allo svincolo di Campania. Nell'impatto mortale, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti due veicoli, una Smart ed un camion, ed una persona è deceduta. Si tratta di un trentenne di origini ucraina e residente a Calabrito, nella Velinese. Sul posto sono giunte le squadre dell'ANAS e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione.